Allora inizia il Torello, il giudice ha dato già l'indicazione Parte uno e sotto l'altro Il Torello massacrante sfida in Massolab Abbiamo preso tutti Ok E si riparte dal primo Diciamo che prima di andare in pausa pranzo Chiudiamo la mattinata con questo bel Torello Dove abbiamo fatto un po' di pratica iniziale L'attesa sulla sbarra è abbastanza logorante Oh raga un po' di casino però forza dai Vai con gli applausi vai Ma che cazzo Vai forza Vai comello Attenzione il coach Andrea chiama la folla Segno di grande lucidità e freschezza Si si Mi sta lanciando la sfida Attenzione Attenzione Uno c'ha mollato Uno c'ha mollato No Sì Trici Chi ha stare in blocco ti può c'è Attenzione Siamo un po' Diciamo che siamo un po' permissivi perché alcuni muscle up sono già No reps No No Non ho creduto però Attenzione E la sfida è di nuovo tra di loro Sempre Sempre tra di loro E sempre tra di loro Via Dai Oh finisce sempre che rimangono loro due Via Sì Via Occhio allo che Andrea sta ostentando troppa Attenzione Grazie Fantastico Fantastico Grazie a tutti i nostri spettatori